Si parte prima e si cerca di aumentare il numero di dosi somministrate, questi pilastri della campagna vaccinale che inizierà lunedì 7 ottobre a Piacenza come in tutta la regione Emilia-Romagna. L'obiettivo è ambizioso, raggiungere il 75% dei cittadini over 65 e incrementare i numeri per ogni categoria, dai minori ai fragili, passando per il personale medico. La vaccinazione gratuita per ormai tantissime fasce di età e di popolazione è la prima forma di protezione vera, di prevenzione contro l'influenza e quindi per noi è un momento particolarmente importante perché l'incidenza dell'influenza nel periodo invernale sia nei bambini sia negli adulti e anche nei fragili provoca spesso momenti di grande congestione nei pronti soccorso. Essenzialmente due categorie di bambini che hanno bisogno della vaccinazione in particolare sono i soggetti fragili di qualunque età, compresa tra 0 e 14 anni e poi abbiamo una categoria che è stata ben individuata dal Ministero della Salute che sono i bambini sani in età compresa tra 6 mesi e 7 anni. Questi bambini, anche se sani, hanno una storia di complicanze da malattia influenzale che è paragonabile come incidenza a quella dell'anziano. A Piacenza sono già arrivate 65.000 dosi pronte per la somministrazione, fondamentale all'interno della campagna vaccinale il contributo di medici di famiglia, pediatri e farmacie. Le vaccinazioni sono molto importanti, noi siamo l'ultimo anello della catena praticamente, siamo stati coinvolti nel discorso delle vaccinazioni dopo il Covid perché si è visto che effettivamente siamo stati molto utili. Siamo in tanti e speriamo di raggiungere quelli che sono gli obiettivi, anche se ambiziosi delle regioni, se avremo i vaccini a sufficienza per raggiungere. Perché voi capite che se dobbiamo raggiungere il 75% delle vaccinazioni e ne abbiamo in 60 è difficile raggiungere. Quindi spero che poi arrivino in un secondo tempo. Tutte le informazioni su dove vaccinarsi e sui destinatari delle vaccinazioni gratuite sul nostro sito liberta.it e su quello dell'Asla di Piacenza. Grazie a tutti.